Presidente marinese di Confindustria Venezia e la nostra collega ingegnere Alessandra Grosso del Consiglio dell'Ordine che però fa parte anche del gruppo di lavoro della Federazione Ordini Ingegneri del Veneto che ha studiato il tema di rigenerazione di Porto Marghera che è oggetto del convegno odierno. Alessandra vuoi dire due parole su cosa avete fatto? Allora, tutto è cominciato un paio d'anni fa quando si erano creati due gruppi di lavoro uno relativo al porto offshore, un shore che era un tema caldo qualche anno fa e poi parallelamente c'era un gruppo di lavoro che stava studiando su quali potenzialità avvesse l'area di Porto Marghera. Ci siamo resi conto che i due tepi non potevano assolutamente essere distinti e lavorare in modo distaccato quindi si è pensato di unificare i due gruppi di lavoro e ragionare invece su quali fossero le potenzialità di quest'ambito soprattutto rendendoci conto della copresenza di notevoli soggetti competenti in tale ambito e che c'è appunto il rischio che ognuno possa andare in direzioni magari non coordinate. Quindi l'idea era quella di farli sedere uno stesso tavolo e stimolare un lavoro futuro di collaborazione per portare al massimo i risultati all'interno di quel territorio. E oggi vediamo i risultati di questo convegno. Il Presidente Marinese che abbiamo invitato perché è uno dei stakeholders anche di quest'area e volevamo sentire il suo pensiero. Il mio pensiero è semplice, noi abbiamo un'area industriale viva, è un'area industriale strategica l'abbiamo detto, dobbiamo mettere a fattore comune le informazioni per disegnare un progetto che è un progetto industriale ma anche di riqualificazione urbana perché sappiamo che noi abbiamo anche un problema grande di riqualificazione urbana abbiamo un problema di riqualificazione industriale e abbiamo un problema di rilancio del porto che diventa sinergico e strategico per l'intero Veneto. Oggi il convegno affronta un tema rilevante e cerchiamo attraverso questo convegno di coniugare insieme un'idea attraverso anche la possibilità di contaminarci con l'informazione e mettere a fattore comune quelli che sono i dati, i problemi e prospettare le soluzioni. E noi ingegneri della provincia di Venezia la rinventiamo e cercheremo di trovare delle sinergie in futuro come il fatto per il passato. Grazie a molte. Grazie. Grazie.